Salve a tutti ragazzi bentornati su Sam Channel, siamo arrivati alla terza puntata su questo remaster di vecchia data Non ci resta che scoprire qualcosina in più sulla nostra donna che sembra essere una santa Ma che sul computer che fa le bizze non riusciamo a fare il fantomatico viaggio verso il numero 9 Vediamo se riusciamo a trovare qualche indizio in giro Mi dispiace di avervi deluso Manny In ogni caso questo è un gioco che mi sta divertendo veramente molto sia per la qualità Ehi, Ossetto, nel mio ufficio, ora! Hai danneggiato le attrezzature della ditta per ottenere informazioni segrete Hai preso possesso di un'auto illegalmente modificata Hai un autista non registrato E come non bastasse hai fregato Domino È tutto per sottrarre un cliente al suo legittimo agente Non c'è niente di legittimo in questo posto Dai clienti migliori a Domino Manny, adesso sono veramente imbarazzato per te Hai messo in imbarazzo tutto l'ufficio Chiamerò qui la donna così potrai farle tu stesso Le tue scuse Eva, fai entrare Miss Colomar, per favore Se n'è andata da un quarto d'ora, signore Ha detto che l'aspettava una lunga camminata e voleva partire presto A piedi! Aveva un biglietto per il numero 9 Perché pensava di dover andare a piedi? È il miglior pacchetto che ho trovato Adesso capisci perché do tutti i clienti migliori a Domino Quella donna era una santa E aveva diritto a un biglietto doppia N che non avrà mai Perché tu, tu non lo hai trovato E adesso per colpa della tua stupidità Lei è là fuori Da sola Che cammina nella foresta pietrificata Tra i demoni del mondo sotterraneo Senza protezione Questa è la sua ricompensa per una vita di abnegazione E di pubblico servizio Il suo destino rubato da uno stupido venditore ambizioso Alla ricerca di una grossa commissione Che non si merita Entra qui e restaci Perché i ragazzi giù in città non ci diranno cosa farne di te Qualche testa deve cadere per questo Calavera E non sarà la mia Ok quindi Stavo dicendo che mi piace veramente per la qualità dei dialoghi E la storia è veramente bella Vediamo un po' di uscire da qua Ehi ce ne sono lì fuori Allora Manuel Hai riflettuto su ciò che hai fatto Vabbè vabbè Vediamo se riusciamo a regolare questi famosissimi conti Che di cui ancora non abbiamo scoperto niente Sto pensando di uscire e regolare i conti Ecco tutto L'unica via d'uscita Manuel È tornare sui propri passi Se sei veramente fedele a questa compagnia Gridalo ad alta voce L'amministrazione potrebbe sentirti e metterti di nuovo al tuo posto Secondo me si gioca sporco Perché qua dentro Il computer di Manny non funziona mai Infatti Trova sempre Scelte sbagliate E comunque si tende a favorire Domino E il capo ce l'ha sempre col povero Manny Quindi scegliamo la terza Il DDM gioca sporco E io intendo provarlo Faresti questo Ciò causerebbe all'agenzia un sacco di problemi Ma stiamoci convinti di quello che diciamo Porterò a galla il marcio che c'è in questo posto Ragazzo tu sei un nemico del dipartimento della morte Benvenuto nel club Salvador Limones E' amico Dove mi porti? Al quartier generale della AAP AAP? L'alleanza delle anime perdute Siamo un piccolo gruppo Manuel Ma sempre alla ricerca di nuove reclute Per fare che esattamente? Ci serve aiuto nel settore spionaggio Conosci Eva naturalmente Manny? Una volta ero un mietitore come te Manuel Ma scoprì una rete di corruzione Nel nostro caro dipartimento della morte Ho ragione di credere che l'ufficio acquisizioni Stia truffando le anime che invece dovrebbe servire Penso che qualcuno stia derubando queste povere anime ignare del loro legittimo destino Senza lasciar loro altra scelta che quella di un pericoloso sentiero di lacrime Soli e indifesi Come bambini Manuel Come bambini Hai delle prove? È compito tuo Manuel Ma dovrei chiamarti Agente Calavera Manny è sufficiente Non voglio unirmi a nessuna organizzazione militare Sal Rivoglio il mio posto per pagare il debito e andarmene da questa fogna Beh Non potresti nemmeno lasciare la città senza il mio aiuto Il che significa naturalmente che non riusciresti a trovare quella donna e non riavresti mai il tuo lavoro Quando sarai pronto ad unirti alla causa Manuel Allora torna da me Potremmo renderci utili a vicenda Quindi ragazzi siamo entrati in questa organizzazione segreta Che in parte avevo già anticipato io Infatti la corruzione in questa agenzia di lag Infatti si truffano le anime Come questo è visibile dal fatto che il povero Manny è sempre quello che non riesce a trovare mai La destinazione adatta ad ogni... ad ogni animo Vediamo di salire su e trovare qualche indizio per questa agenzia Probabilmente nel... in uno dei due uffici La porta del capo è chiusa Vediamo se possiamo entrerlo qua L'ufficio di Dom è vuoto Vediamo se possiamo entrare Grande Manny Prima di tutto vediamo nella serie della sua scriva Se nella sua scriva ne c'è qualcosa Cosa? Sembra un pezzo di corallo scintillante Abbiamo trovato forse un oggetto molto importante Quindi riponiamolo nell'inventario Qua c'è il famoso punchy ball Oh La... qualcosa si muove Quindi guardiamo a degli pugni Un altro Caduto qualcosa Vediamo se ce lo farà cogliere Uffa Ragazzo non voglio dare un pugno Finalmente Riponiamo pure questo nell'inventario Vediamo se c'è qualcosa altro Non c'è nient'altro di importante Almeno sembra Qua... Qua dentro Ovviamente è davvero È vero uomo Manny Prima dell'avventura Si fa Uno sciottino Ok Vediamo se possiamo salire in cima A questa struttura Come possiamo vedere È piena di piccioni questo luogo Ok Abbiamo raccolto Una parte I palloncini Dobbiamo riuscire a A salire Qualche altra parte Dobbiamo lanciarli verso l'alto Quindi Vediamo se possiamo combinare La statua di corallo Che sembrava vagamente Una Un arpiglio C'è la parte nuova Il panno Ok Colleguiamo Le varie cose Chissà se Domino Lo userebbe così Perfetto Il grande Manny Ce l'ha fatta pure questa volta Quindi Continuiamo a salire Verso la cima Di questo palazzo Guardate quanti piccioni Ci sono delle uova Chissà se dobbiamo raccoglierle Quindi Vediamo se possiamo Usare uno dei nostri oggetti Vediamo con un palloncino Fuggite piccioni È Sigmund Freud Fuggite piccioni È Sigmund Freud Va bene Dopo questo Piccolo momento Così un po' Per ridere Vediamo Se possiamo usare il pane Strano Ci riusciamo a dare piccioni Ok Via Uccellaci Quindi Non riusciamo a avvicinarci Però abbiamo scoperto Vi avverto gallinacci Abbiate più rispetto Gli uccelli si avvicinano Verso gli uovi Quando ci mettiamo del pane Vediamo se possiamo riuscire A costruire qualcosa Che li faccia arrestare Proprio lì Forse questo li spaventerà Forse Ok quindi Dobbiamo andare a recuperare Del pane E poi dobbiamo tornare qui Per Vediamo se riusciamo A spaventare Gli uccelli E recuperare Le uova di piccione Ok ragazzi Quindi abbiamo recuperato Del pane Dobbiamo solo Metterlo Dentro Quella Quella costruzione Conca In modo da Attirare Gli uccelli E poi fargli scappare Così abbiamo ripreso Il nostro Sigmund Freud Vediamo Selezioniamo il pane Nel nostro inventario Eccolo qua Aspettiamo che loro Si avvicino Quindi abbiamo fatto scappare Gli uccelli Andatevene Luridi Sudiciatori Di cornicioni Questo era Uno Dei Degli Inigmi Che saranno A difficoltà Crescente In questo gioco A meno Così In letto Recuperiamo Il nostro Ora Verrete con me Giovani Virgulti Perché io Sono il Tristo Mietitore Ok Possiamo tutto Quindi Torniamo Nello stanzino Vediamo se Possiamo Con tutti questi oggetti Che abbiamo recuperato Creare qualcosa Ehi Che ne hanno fatto Di Glottis Bella domanda Dov'è Glottis Però Prima di tutto Selezioniamo La Le dentiera Di Di Domino Mettiamola qua Riempi Dent Buono per i denti Ottimo per i paradenti Adesso le uova di piccioni Vediamo se servono Non devo Non devo romperli Non devo romperli Quindi adesso Possiamo creare Uno scal Uno Averte presente La La dentatura Una Una base Con cui creare La dentatura Di 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 Già pieno Di Quella Roba Quindi Abbiamo Si sono impressi Perfettamente E mi ha lasciato Anche un leggero Retrogusto Gessoso Abbiamo creato Un calco Abbiamo creato Un calco Della dentatura Di Manny Vediamo se possiamo Tornare adesso La Nella base Della Dell'agenzia Segreta Agente Calavera Però Signorina Anche un po' A caso Abbiamo riusciti A creare Questa Dentiera Quindi non ci resta Che darla Forse A Evo Questo Sembra un perfetto Calco Dei tuoi denti Manny Possiamo usarlo Come modello Per costruire Una finta Dentatura E accedere Così al sistema Bel lavoro Soldato Tu sei un amico Della rivoluzione Agente Calavera E ora Permettimi Di esserti D'aiuto Devi andare Nella città Di Rubacava Per trovare La tua anima Perduta Come sai Che è là Non lo so Ma chiunque Voglia raggiungere Il nono Al di là Deve attraversare Il mar Dei lamenti E quindi Deve andare A Rubacava Per imbarcarsi Su una nave Se andrai lì Prima che ci arrivi Lei La puoi trovare Ma potresti Attendere a lungo Aspetterò Il tempo Che serve Manuel Ti sei Innamorato Amore L'amore È per i vivi Sal La cerco Solo perché Lei è Il mio biglietto D'uscita Da qui Questo era un tunnel Sono in direzione Della foresta Pietrificata Ok ragazzi Quindi Il nostro Benny È partito Alla ricerca Di Mercedes Quindi Per trovare Questa donna E anche Al tempo stesso Pagare il suo debito Che comunque Almeno Allegoricamente È questo Quello Che vuole simbolizzare Questo viaggio Può da sia A questa fine Del viaggio Manny Riuscire a arrivare A ricevere Un biglietto Per il fantomatico Numero 9 Però questo ancora Non lo sappiamo